da qualche tempo in questa parte sul canale youtube soprattutto inizierete a iniziare già a vedere delle recensioni di eventi i concerti dal vivo un po più del solito e sono molto contento di poter confermare quello che avevamo anticipato tempo fa cioè flavia è andata non è riuscita ad entrare al concerto della rappresentante di lista no sei stata invitata a credere anzi a questo punto ringraziamo lo frio stampa che ci ha permesso questa cosa e il hai visto il concerto della rappresentante di lista a roma data romana il 29 novembre all'atlantico giusto sì atlantico luogo del cuore di flavia la palestra io lo chiamo la palestra del liceo mi dispiace per l'atlantico non voglio essere insomma crudele nei loro confronti esteticamente è una palestra del liceo e anche diciamo dal punto di vista sonoro è una palestra sì forse sempre meglio del palo ottomanica ma comunque lì vicino in ordine a ritrosa andando a ritrosa nel tempo tu in quel posto hai visto angelina mango ne abbiamo parlato qui una vita fa vabbè e anche carni love no carni love insieme a 20 persone no ed era eravamo pochissimi senza dubbio e per un attimo pensavo che saremmo stati pochi anche a questo concerto della rappresentante di lista perché sono arrivata una mezz'oretta prima dell'apertura cioè no della data di la data dell'orario d'inizio perché sono una persona anziana perché mi muovo con tempo e erano pochissimi però poi mi sono ricordata che eravamo che siamo a roma esatto e la gente arrivata tutta dopo ed era sold out era pieno sì era pieno e allora devo dire che io avevo buone aspettative che sono state confermate la rappresentante di lista è un duo per chi non li conoscesse che forse li avrete sentiti negli ultimi anni per Sanremo fondamentalmente hanno fatto due spot ciao che insomma è stata molto molto cantata e in questo caso hanno avuto anche un opening un cantautore che si chiama nicolas zullo è un cantatore di via reggio molto tenero proprio a proposito della forma gucciniana cioè lui era proprio chitarra e voce null'altro che questo canzoni molto appunto tenere un po naif sull'amore l'apporto l'amore e la natura sembrava insomma una un po liceale come come attitude però non era male e devo dire non vicinissimo dal punto di vista sonoro con con la rappresentante di lista cioè è un opening un po strano probabilmente sottolinea il loro amore il loro interesse per i contenuti beh sì sicuramente per la scrittura fondamentalmente perché appunto è la scelta di un cantautore completamente cioè molto poco conosciuto quindi anche una cosa carina alla fine da fare qui il concerto è cominciato circa una metà di minuti dopo l'opening è durato più di un'ora e mezza quindi un concerto classico sì è stato devo dire un un bellissimo concerto allora intanto posso dire che hanno una fanbase bella tosta nel senso che a parte una accanto a me che mi ha sturato un orecchio cantando più forte della cantante della rappresentante di lista che comunque sì a un certo punto io ero quasi indecisa se dirle ma senti vorrei sentire lei così nel dubbio poi dovevamo andare a prendere flavia capone a regina cieli no vabbè però però da una parte mi anche molto ero contente perché alla fine quando si vede qualcuno così appassionato di musica non è che ti può prendere male cioè ti scoccia un po però poi io mi vergogno sempre di non saperle come loro perché penso loro penseranno questa qui certo che ci è venuto a fare però queste sono le mie padurnie personali ma te stai lavorando magari è anche lo so magari sono andata per scoprirli c'è qualcuno che va ai concerti di persone che conosce pochissimo perché magari è attirata da una o due canzoni le persone migliori e vuole scoprire le persone migliori devo dire che se fossi andata con questo spirito che è quasi il mio non ne conosco ne conoscevo più di una o due però sarei stata piacevolmente sorpresa perché è stato un bel concerto loro sono bravi la formazione abbastanza semplice non sono pochi però diciamo musicalmente quello che ti arriva è abbastanza semplice la bad classica rock l'unica cosa è che c'è loro usano molti effetti sintesi sì esatto io li chiamo pianoline Giorgio Moroder è in questo momento inciampato e a parte questo ovviamente gran parte del fascino di questo gruppo si poggia su lei sulla cantante Veronica Lucchesi che ha una voce pazzesca ma anche un grande attitude a differenza del suo collega no Dario che per carità io tra l'altro magari non so nella componente di scrittura io non so come sono suddivisi guarda se vuoi io davanti la formazione ufficiale Dario Mangiaracina su tipo su una canzone che ne so il testo lo scrive tutto lei o tutto lui non lo so però posso dire che lui si sbatte tantissimo tantissimo per trasmettere dal palco ed è una cosa bella io non dico che non sia bello però quello che fa lei che riesce a fare lei con un gesto della mano lui correndo come un disperato saltando mezzo nudo comunque non arriva la stessa efficacia potremmo dire è un problema suo stile di Veronica però sono un duo molto interessante soprattutto ripeto dal punto di vista di scrittura perché ritorniamo al discorso di Cuccini se lì ho un po' tremato ripensando a com'era il cantadorato italiano a quell'epoca e ai testi che sono venuti fuori che tuttora cantiamo e ai quali tuttora infondiamo un significato anche importante proprio nelle nostre vite la rappresentante di lista secondo me un po' va in questa direzione loro ci provano e secondo me ci riescono anche a dare dei messaggi a dire delle cose che abbiano un senso tra l'altro con una grande secondo me forza hanno sottolineato praticamente per tutto il concerto l'idea della pace dell'amore prendendo posizione lei ha urlato varie volte palestina libera ma hanno parlato di guerra di essere contro la guerra con una fermezza che insomma recentemente ho visto non tutti cioè in alcuni casi però e tutto questo unito ad un bellissimo discorso che lei fa partiamo da questo presupposto questo è un tour che si chiama giorni felici come l'album l'ultimo album uscito che si chiama giorni felici molto interessante molto bello assolutamente lei alla fine ha fatto un bel discorso secondo me legato proprio al concetto di felicità cioè lei ha detto questi sono sono giorni non sempre felici e non solo per me cioè lei parlava attivo personale ma anche per il mondo dice io ci sono i momenti in cui sono molto felice perché sto vivendo le mie cose sto facendo le mie cose e dall'altra però vengo presa da uno sgomento perché mi guardo intorno e allora dice io però sto imparando e vorrei che tutti imparassimo ad abbracciare questa queste sensazioni cioè il fatto che si può essere c'è differenza intanto fra felicità e allegria e si può essere felici abbracciando anche questi momenti di tristezza di abbrutimento di sgomento come l'ha chiamato lei perché questo porta anche a delle riflessioni e anche poi a dare una risposta che voglio dire è una riflessione molto sensata anche molto generazionale secondo me perché riguarda ci riguarda in particolare alle nostre generazioni e permette di leggere tutta l'opera diciamo della rappresentante di lista dandole un significato e facendoci capire che loro effettivamente vogliono dire delle cose con queste canzoni tanto per citarne una perché l'abbiamo anche mandata in onda varie volte su letture metropolitane è un brano che si intitola questo corpo che è un brano bellissimo non dell'ultimo disco non del classico bellissimo e che secondo me lei l'ha introdotto dicendo voglio dedicare questa canzone a qualcosa che amo molto a cui devo molto che è il mio corpo con tutte le sue difficoltà con tutte le sue imperfezioni che insomma un discorso importante ecco diciamo l'esempio di persone che utilizzano il loro talento il loro privilegio le loro capacità per dire qualcosa sì 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 basta questo secondo me è quello che dovrebbero fare in molti ognuno col suo stile poi non è che uno deve per forza fare cioè loro fanno pop e diciamocelo c'è un airlock airlock relativamente anche molto pop ci sono dei suoni molto diciamo digitali sono ecco siamo nel 2025 poi appunto c'è ciao ci sono quelle canzoni anche un po non dico da tormentone però però tutto insieme crea una una forma credibile c'è un modo credibile di fare musica in questo momento storico ed è uno dei motivi per cui gli anni passati abbiamo seguito con con trasporto sanremo proprio perché non partecipano anche loro quest'anno chissà ma sicuramente tornando al discorso cuciniano era per fare un parallelo molto spesso eventi di richiamo di impegno artistico e per per tematiche politiche ma anche per tematiche appunto importanti spesso e volentieri trovano la rappresentante di vista come artisti nel cartone se vi capita di intercettarli in qualche modo avere possibilità di vederli dal vivo non riconsiglia adesso sono partiti quindi nel turn c'è un tour europeo sì credo di sì ma non so poi come funzionerà il resto del loro anno però ecco forse d'estate torneranno a suonare io però gli consiglio molto il disco nuovo è molto bello ci riascoltiamo